Siamo con Cinzia Bettega, capogruppo della Lega Norte in Consiglio Comunale di Lecco. Siamo reduci da un Consiglio Comunale molto importante sul bilancio. Qual è stata la posizione della Lega? Noi abbiamo votato contro il bilancio e il documento unico di programmazione con delle motivazioni varie e articolate. Il bilancio che è stato presentato è molto generico e comunque secondo noi non affronta veramente quelle che sono le questioni grandi e i problemi spiccioli. È vero che contiene di tutto e di più, ma proprio per questo è un documento che riteniamo vago. Non basta riempirlo di titoli, infarcirlo di paroloni, missioni, obiettivi strategici. Tra l'altro abbiamo visto che, questo è l'aspetto forse più grave, è prevista un aumento per gli anni 2017-2018 dell'addizionale comunale IRPEF per garantire l'equilibrio del bilancio stesso. Non è con questo sistema, non è aumentando le tasse che si fa quadrare il bilancio di una città come Lecco, dove la crisi si è sentita e dove le persone hanno bisogno di servizi e di supporto dal Comune, non di tasse in più. Passato il bilancio, con il vostro voto contrario, voto di opposizione, si annuncia un'altra importante seduta del Consiglio Comunale su un problema che ha riscaldato, animato, agitato la città, anche con comitati di quartiere e gruppi spontanei. Il problema di alcuni insediamenti scolastici, in particolare dei plessi della scuola primaria. Qual è la vostra posizione in merito? Noi abbiamo chiesto un consiglio comunale dedicato proprio al problema delle scuole primarie. Un tempo si chiamavano scuole elementari, forse è più semplice chiamarle ancora così. Abbiamo chiesto questo Consiglio Comunale, insieme anche ad altri consiglieri di opposizione, e noi come Lega Nord abbiamo presentato un ordine del giorno specifico che vuole non soltanto tutelare dove è possibile la presenza delle scuole elementari nei quartieri, ma comprende un'attenzione più generale verso Rioni che in questa amministrazione obiettivamente manca perché un tempo c'erano i consigli di zona. I consigli di zona dalla precedente amministrazione, sempre guidata da Brivio, erano stati trasformati in comitati territoriali per la partecipazione. Adesso non ci sono più. La gente deve fare il comitato, altrimenti non sa come farsi sentire. E anche sui social impazzano i gruppi, si fanno assemblee. Questo significa che la gente non si sente ascoltata. E il problema della scuola elementare, naturalmente, forse il primo, il più importante, perché una scuola mantiene un quartiere vivo. Avete delle proposte da fare, alternative, o le farete nel corso delle prossime sedute rispetto a quello che è stato approvato nel bilancio di previsione? Sì, noi abbiamo sempre delle proposte, purtroppo non vengono accolte o non vengono seguite un po' il ruolo mortificato del Consiglio Comunale. Mi sento comunque di dire che ieri sera, durante la seduta del bilancio, è passato un nostro emendamento della Lega che aveva come obiettivo puntare l'attenzione sui problemi di sicurezza che coinvolgono la Biblioteca Comunale. Noi sul tema della sicurezza, per riagganciarmi alla sua domanda, siamo sempre sul pezzo, come si suol dire. Questa è una tematica a cui noi facciamo molta attenzione. La questione della sicurezza della Biblioteca è dovuta alla presenza di persone che non hanno nessun interesse né per la Biblioteca né per la cultura generale, che però stazionano senza far nulla e non è il posto adeguato. Se queste persone hanno dei problemi di disagio sociale bisogna intervenire, però la Biblioteca deve essere un posto che va frequentato con sicurezza, a disposizione di studenti e di cittadini. Siamo alla vigilia del 13 aprile, ecco perché richiamo questa data, perché il 13 aprile 1928 veniva inaugurato l'attuale Palazzo Municipale. Qualcuno ha scritto che sono passati 88 anni e 88 anni questo palazzo li dimostra tutti. Basta ricordare i recenti urgenti interventi. Si è parlato di sedi alternativi, di recupero di altri spazi. Voi come la pensate? Beh, è un problema da valutare, da analizzare con molta serietà, perché non soltanto il Palazzo Municipale ha avuto i problemi che lei ricordava, quindi sono stati spostati degli uffici, persino l'aula consigliare non è stata agibile per alcune settimane, ma persino la sede di Via Sassi, se un cittadino, se chiunque entri nel cortile di Via Sassi, vede un palazzo adibito ad uffici comunali in situazioni pietose. Lasciamo pure perdere l'asfalto, che dire asfalto è un eufemismo, il cortile è pieno di buche, ma vediamo sulle finestre serramenti vecchi, veneziane rotte, muri scrostrati. Cioè non è un posto dignitoso per degli uffici comunali di una città che è un capoluogo di provincia, che è un punto di passaggio dall'area milanese alla Valtellina e quindi anche un'apertura verso l'Europa. Quindi noi dobbiamo prendere più coscienza del nostro ruolo. È vero, siamo una città piccola, ma abbiamo un ruolo dei doveri nei confronti del territorio e il decoro comunque dei palazzi comunali mi sembra una questione basilare. Andiamo velocemente verso il primo anno di mandato dell'amministrazione Brivio, eletta lo scorso anno in avanzata primavera. Qual è il vostro bilancio complessivo generale dopo un anno? Bilancio parziale perché il mandato si articola su un periodo più lungo, però in questo momento voi rimanete all'opposizione? Naturalmente, anche perché è vero che è passato un anno scarso dalle precedenti elezioni, però la precedente amministrazione era guidata dallo stessa persona, sempre il sindaco Brivio, quindi noi consideriamo cinque anni persi quelli del precedente mandato e praticamente perso anche questo. Noi, tra l'altro, non siamo soltanto noi, io sono un testimone oculare, auricolare della sfiducia, della disaffezione, diciamo non ci sono in questa amministrazione, in questa giunta, questa unità di tenti, questo sprint che servirebbe, non dico a far scattare la passione politica nei cittadini, ma almeno allenire quella sfiducia, quell'insoddisfazione che i lecchesi, molti, sentono verso la politica, gli amministratori pubblici, non dimentichiamo l'alta percentuale di astensione che ha accompagnato le ultime elezioni comunali, quindi il nostro comunque è un giudizio negativo, perché noi quest'anno abbiamo visto veramente poco, questioni anche molto confuse, tipo la riorganizzazione degli uffici comunali, del personale, che avrebbe dovuto essere un momento di unione, di condivisione, di obiettivi, che invece alla fine sta scontentando una parte forse troppo ampia del personale comunale.